Grazie a tutti. Questa è InZion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su InZion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube in Zion. Dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno. Quinta edizione della profezia celestiale. Questa volta impareremo a non arrabbiarci, perché quando ci arrabbiamo non siamo nella condizione di disamore e questo per loro è fonte di controllo. Suscritti e saperemo a non arrabbiarci, che ci arrabbiarsi. Grazie a tutti. Ciao raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora ragazzi, questa mattina, questa mattina, sapete che faccio a rotazione, faccio intervenire tutte le assistenti, quelle più rappresentative, e questa mattina c'è un assistente d'eccezione. C'è un assistente che voi non immaginerete mai. Quale sarà la nostra assistente di questa mattina? Signore e signori, non senza emozione, Sonia Cabbiaia Naturopata. La rabbia di Sonia Cabbiaia Naturopata. Buongiorno amore. Buongiorno. Pensate anche al mio dramma, che la sento due volte, la sento poco distante, la sento poi in audio. Amore, buongiorno, buongiorno. Dove ti trovi? Buongiorno, sono qua fuori. Benissimo, è felice la tua vita con me? Certamente. Allora, tesoro, gentilmente, ovviamente sia obbligata, lo capisci bene, tutti gli appuntamenti di qui a ottobre, grazie, grazie mille, delle persone, dei nostri corsi, dei miei corsi, ma anche delle persone dove organizziamo loro il corso. Prego. Allora, metto gli occhiali. 17 settembre Lucanali Campane a Frascati, vicino Roma. 17 settembre Massimo Bianchi, la trappola, uscire dalla Matrix a Sanremo. 18 settembre sempre Lucanali Transurfing a Frascati, sarà un weekend lungo. 24 settembre Massimo Bianchi, la grazia al femminile a Monza. 25 settembre 17.20, sempre nel pomeriggio, Andrea Pietrangeli a Sanremo, sti cazzi. 25 settembre Lucanali Campane a Monza. 25 settembre Davide Cristallo, lavoro su di sé con esercizi a Pesaro. 1 ottobre, ancora 17.20, sempre la sera, a Sanremo, Gabriele Sannino, l'amore un giorno alla volta. 8 ottobre Lucanali Campane tibetane a Bolzano e poi anche 9 ottobre sempre Lucanali Transurfing a Bolzano. A Bolzano, vai, grazie amore mio, grazie. Allora, intanto ricordo che tutte le persone che possono partecipare e vogliono partecipare a questo corso non fanno altro che mandare una mail di richiesta a luca.nalichiocciolenzion.com e risponde puntualmente, fedelmente, la nostra zona cabaglia è naturopera, per cui è veramente una macchina su questo, da questo punto di vista, quindi vi risponderà. E potete fare tutte le domande del caso, oppure anche iscrivervi. Potete però trovare l'iscrizione nella nostra piattaforma www.inzion.com. Ricordo, questa cosa la ricordo tutte le volte, perché non vorrei che fosse considerata come una soluzione estemporanea. Tutte le persone, allora, noi, lo staff è sostenuto attraverso i corsi, ok? I corsi sono fonte di sostentamento per il nostro staff, se però una persona può partecipare ai nostri corsi, ai miei corsi, scusate, perché ovviamente parlo soltanto dei miei corsi, può farlo a offerta libera oppure gratuitamente nel caso in cui non volesse o potesse pagare il biglietto d'ingresso. Quindi mi raccomando, consideratela questa opzione, considerate questa opzione come assolutamente fattibile e possibile. Allora, tesoro, la professione di Celestino, tu l'hai mai letta la professione di Celestino? Due volte. Ti è piaciuta? Sì, 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 sì. Bene, ti ha cambiato un po'. Buona esperienza. È un viaggio, vero? Sì. Allora, Sonia Cabaglia Naturopata, tra l'altro, è felicissima in questi giorni, perché ha fatto diversi corsi, no? E ha fatto, hai fatto, ho tiri di bacche, lo stretching dei meridiani e poi l'alli essenziali. E poi degli esercizi per la menopausa. Esercizi per la menopausa, no? Di autotrattamento. Ecco, non per adolescenti, diciamo così, no? Quindi, e il corso sugli oli essenziali che trovate in piattaforma, anche perché forse l'alli essenziali è un qualcosa che comunque sono particolarmente fruibili, credo. Insomma, ti compri un olio e poi te lo usi e è veramente molto efficace, sta andando da Dio. Quindi se la sta tirando, adesso la vedete pseudo umile, però veramente sto passando dei giorni d'inferno, perché se la tira, se la tira, non ho fatto che dimmi, ma cosa sono tutte queste confidenze e così, ma perché è orgogliosissima. Quindi anche vi voglio ringraziare. Sono contenta. Certo, perché sta andando veramente molto, molto bene. Ok, allora Sonia, quinta profezia di Celestino, gentilmente, leggi il trafiletto con un più lungo che ti ho mandato? Grazie mille. Allora, ovviamente la mia gentilezza è assolutamente di forma, perché lei sa perfettamente di essere obbligata a fare quello che ti dico. Soltanto in quest'ora, poi nelle date 23 ovviamente sono succube, però in questa comando io. Prego, amore. Allora, il messaggio dei mistici. Insicurezza e violenza cessano di esistere quando proviamo una connessione interna con l'energia divina, descritta in passato dai mistici di tutte le religioni. Un senso di leggerezza ed esuberanza e una costante sensazione d'amore dimostrano l'esistenza di tale rapporto ed è indispensabile per provarne l'autenticità. In mancanza di tali requisiti la connessione è solo simulata. Ecco, perfetto. Grazie, grazie mille, amore. Ascolta, mi ti vuoi mettere giù? Passi i commenti? Sì. Se c'è qualche birbante che mi offende così, o puoi magari fare un intervento a sproposito, me la segnali e me la metti in evidenza così. Tu la sai bloccare una persona? Ma forse tu non saresti capace? Ti dispiacerebbe magari? No. Non lo so. Non si sa. Non si sa. Ci dispiacerebbe. Beh, quindi lo dici a me, lo faccio io, va bene? Ok. Ciao, amore mio. Ciao. No, ho sbagliato. Ah ah ah. Figurina di merda iniziale. Di sole e gabbiaia, Naturopa. Vediamo la rabbia! La rabbia di sole e gabbiaia. Pensate che Costella, la sua giornata, rifigura questa merda costantemente per qualsiasi cosa. Bene, non più tardi di stamani gli hanno fatto il culo, il campeggio. Comunque, vabbè. Allora ragazzi, per quanto riguarda la protezia di Celestina, intanto io vi ringrazio perché voi sapete, no, che conquistiamo il showdown, però non stiamo sopperendo a questo showdown quando un provider ti limita, ti limita nelle visualizzazioni, nelle interazioni, voi sapete che vi togono all'iscrizione, mettete un like, poi non ce lo ritrovate perché ve lo toglie tutta una serie di cose. sui commenti, anche un po' di difficoltà con i commenti, che ci sono delle parole chiave effettivamente, che se vedete per esempio delle parolacce, cioè, vengono non vengono messi automaticamente, oppure se metete un link anche non vengono inseriti, però comunque c'è un po' di difficoltà anche lì, no? Quindi di conseguenza siamo in showdown. Però malgrado questo, grazie al mio staff e alle persone che stanno collaborando a questo, noi stiamo adesso scendo sul mio profilo Facebook, su tre canali YouTube e poi questo video viene caricato a termine, adesso si sta caricando, poi alla fine della live sarà caricato nel mio canale personale Vimeo, che poi lo porteremo in piattaforma e questi video stanno avendo una media da 30 a 40 mila visualizzazioni per ogni video, questa serie, quindi ragazzi grazie veramente di cuore per questa considerazione, in questo momento 800 persone collegate, quindi grazie davvero di cuore per questo, da sicuramente mi spinge ad essere anche molto più competente di quanto non lo sia, anche molto più serio se volete, perché mi rendo conto che l'aspettativa di moltissime persone si sta facendo vedere, quindi grazie. Allora, profezia di Celestino, perché si fosse perso le precedenti, si inizia dalla prima, adesso siamo alla quinta, ne vedremo fino a 10 e l'ho messa tutto all'interno di una playlist che potete trovare sul canale YouTube, ma ovviamente anche sulla nostra piattaforma, in Zion dove vengono caricate a termine di queste live tutte, tutti i contenuti relativi alla profezia di Celestino. Il profezia di Celestino che va a calcare tutte quelle che sono, diciamo, le condizioni di questo momento, ne parlava 30 anni fa, no? Come se fosse un po' di fatto, come se avesse previsto un po' tutto quello che sta accadendo in questo momento e di conseguenza abbiamo modo di comprendere le cause, il motivo per cui accade questo, tutto questo e come fare per riuscire a gestire in maniera, diciamo, virtuosa, no? Come pare a portare a nostro vantaggio tutto questo. Ricordiamoci che quando non siamo di fronte a un'esperienza, no? L'esperienza non è mai positiva o negativa, l'esperienza è sempre neutra. Il nostro approccio, la nostra reazione, la nostra interazione consente che poi sia funzionale o disfunzionale alla nostra energia. Quindi questa è una cosa veramente molto importante, così come è molto importante comprendere le cause di un disagio, le cause di un malessere. C'è un proverbio buddista che dice se cerca di curare una malattia senza conoscerne le cause non farei altro che raggravarla. Quindi noi adesso parleremo di amore, cercheremo anche di comprendere come viene distrutta questa condizione di amore, ma soprattutto parleremo e cercheremo di chiarire cosa è realmente l'amore di cui parla una profezia di Celestino. Intanto noi andiamo a vedere quello che loro ci stanno facendo in maniera reiterata a vari livelli. Allora, prima di tutto cercano di spostare tutta quella che è la nostra attenzione, il nostro focus. E voi sapete che l'energia va dove si concentra l'attenzione e lo sanno anche loro. Di conseguenza ci fanno vedere necessariamente un nemico, no? e un amico, ok? E poi anche un giustiziere, funziona un po' in questa maniera, non il salvatore. Quando noi interpretiamo il mondo, lo facciamo attraverso i modelli senza rendercene conto. Questa è la mia grande fortuna, la mia grande fortuna intendo quella di essere stato cresciuto, di essere nato, di essere stato educato in maniera assolutamente spontanea, diciamo sono un educatore, sono un educatore di me stesso, sono un autodidatta e purtroppo se ne vedono talvolta anche un po' i risultati, diciamolo, però questo mi ha consentito di non avere dei modelli prestampati, perché non senza rendersene conto, quando interagiamo con un'esperienza, inseriamo il modello, diciamo, il paradigma che comunque ci fa collocare questa esperienza all'interno della nostra concezione. Se io trovo, per esempio, se io parlo, ve la faccio molto semplice, perché sembra complicata per realtà molto semplice. Se io vedo un nemico, necessariamente il mio paradigma include anche l'amico e questo amico è un qualcuno che mi viene ovviamente suggerito, lo vado a cercare, se però mi viene spiattellato lì, io lo colloco subito all'interno di questo mio paradigma dove avrò l'amico e il nemico. Però il paradigma a cui non siamo sottoposti per effetto, per lo più, di quelle che sono le fiabe, quelle che sono le letture, soprattutto didattiche, scolastiche, quelle che sono i film, include il fatto che ci sia un amico, un nemico e una vittima da salvare, no? Quello che spinge poi l'amico a essere particolarmente efferato giustifica l'efferratezza nei confronti del nemico. Quindi quando io vedo una vittima vado subito a collocarle nel mio paradigma interpretativo, anche il colpevole e anche, diciamo, l'innocente, no? Anche il salvatore se volete questa cosa qui, no? E infatti nei film noi osserviamo che c'è sempre questa cosa, no? Si vede sempre che comunque ci sono questa triade, no? Di figure che intervengono nella nostra vita. Quindi noi senza rendercene conto subiamo un condizionamento veramente molto importante. Adesso faccio un esempio, vogliono farci credere a tutti i costi che l'Ucraina, io la chiamo la l'Ucraina, l'Ucro, la l'Ucraina sia amica a tutti gli effetti e ovviamente l'Ucraina non è la nemica per quanto mi riguarda, ma sicuramente nemmeno l'amica. Ecco, diciamo, è una cosa un po' più neutra e sicuramente viene edulcorata al massimo, no? Quindi com'è che la viene edulcorata? Perché a volte si passa veramente a dei livelli veramente paradossali, no? E a me a volte un po' offende e dispiace tantissimo come riescono ad abbassare il livello, no? Di convincimento con la facilità con cui lo fanno, perché purtroppo loro sanno che si rivolgono a una massa di cretini, a una massa di cretini che non pensa assolutamente, quindi che ne so io, hanno detto finalmente arriva... no, perché ragazzi non sto facendo del sarcasmo, hanno detto veramente così, vi dico le cose che veramente hanno detto. Finalmente è arrivata la prima nave con i grani ucraini, così potremo finalmente avere la nostra pasta e produrre la nostra pasta, ragazzi ci rendiamo conto. Quindi ci sono marchi di pasta che dicono che la pasta è a 100% italiana e festeggiano il fatto che l'Ucraina abbia concesso, sia stato permesso che possano arrivare quindi questi grani ucraini, no? Per poter fare la pasta italiana, una, ma poi c'è anche un'altra. Ovviamente per quanto riguarda le temperature, le temperature mi sono, come ho detto ieri nella puntata di ieri, no? Mi sono un po' diciamo interrogato sulle temperature, ma è veramente caldo e veramente freddo, perché tutte le state ha fatto un caldo incredibile. A Milano tutti gli anni si scalda l'asfalto, vede l'impronte delle macchine così, soprattutto nei marciapiedi, dal caldo che fa. Non è che l'ha fatto solo quest'anno, l'ha fatto anche negli altri anni, quindi sono andata a vedere a confronto le medie di temperatura di tutta Italia e quest'anno è stato più fresco dell'altro anno, a parte quello. La piovosità, la piovosità quest'anno è stato più piovoso dell'altro anno, anche se effettivamente alcune regioni sono state più penalizzate, però vi parlo di una media nazionale. Quindi, cioè questa cosa del caldo, ti dicono che c'è il caldo, c'è il caldo, c'è il caldo e chiaramente c'è bisogno anche di sapere chi è il colpevole di questo caldo. Il colpevole di questo caldo sei tu, col dito così, sei tu, sei tu che inquini, ok? E finalmente però arriva un po' di refrigerio, no? All'era un po' di uno più fresca in tutta Italia, era un po' di refrigerio. Cosa titolava un articolo? Arriva, l'articolo veramente, non vi sto dicendo una cosa vera, l'ho anche postato, l'articolo diceva finalmente l'area fresca proveniente dall'Ucraina. E qui siamo, io capite, capite, nell'immaginario dell'Omini del Palmatot, di Bax Rex, Annelante, alla quarta dose, nel senso lui ha questa percezione che l'Ucraina sta salvando il mondo, ora io faccio anche un piccolo inciso senza volere assolutamente parlare male dell'Ucraina, che non ha assolutamente alcun motivo, di l'amici ucraini, eccetera, però voi sapete che tutti i nazisti, la maggior parte dei nazisti che sono scampati quando sono cambiati, poi voi sapete non vengono uccisi ma vengono esportati, espatriati, sono stati messi praticamente, la maggior parte sono stati messi praticamente tutti in Ucraina, no? Quindi è stato un divaglio rispetto a questo, no? Era una situazione tutelata, protetta, in pieno contrasto con quella che poi sarebbe stata la gestione russa per quanto riguarda il fatto di mantenere l'incolumità a questi soggetti. Quindi noi vediamo anche, diciamo, come mentalità, come formamentis, no? Se vediamo in certi popoli, nei Filippini, vediamo una grandissima voglia di sorridere, di stare con le persone, nei giapponesi questo grande senso di rispetto, nell'Ucraino mediamente, mediamente vediamo una grandissima strapotenza da parte delle donne e da parte degli uomini, no? Sono così. Ora se noi si dà anche è l'agio, no? Di poter manifestare veramente quello che sono loro stessi. Lo sapete? Hanno fatto un tentativo, no? Hanno fatto un tentativo di prendere, di sostituire i medici e i medici dicono, ragazzi, noi guardate, questa cosa finirà, io ve lo dico, no? Questa cosa finirà, tutto questo, tutto a una fine. Questa cosa è così grottesca che veramente finirà, finirà. E quando già la nostra Valeria ha messo un posto in programmazione dove ci ha ricordato, gran grazie Vale per questo, ci ha ricordato che due anni fa era obbligatore alla mascherina dalle 6 alle 18, capite? Ci hanno fatto fare delle cose che sono veramente, veramente ai confini, ai confini della realtà. Ci hanno fatto fare delle cose veramente incredibili. Quando tutto questo finirà, noi vivremo questa condizione senza la condizione ipnotica che purtroppo certe persone finiscono per considerare, finiscono per comunque di fatto includere nel loro scenario percettivo e rideremo come dei pazzi, oppure ci dispiaceremo per il livello che siamo stati in grado di toccare. Comunque, di fatto, loro quindi creano questo scenario, questo scenario in cui c'è la vittima, c'è il carnefice, c'è il salvatore. Quindi noi includiamo nel nostro scenario questa triade di cose, l'Ucraina è la nazione amica assolutamente da difendere e da tutelare, vediamo le figure di questi ucraini che si sentono anche legittimati ovviamente a essere, ah, vi dico dei medici, a essere strafottenti oltre ogni immaginazione perché chiaramente vengono viste a complauso ed effettivamente sono state anche accettate dall'omini ripalmati, trivax, annelanti alla quarta dose con grandissimo entusiasmo, è chiaro, però poi hanno cercato di inserirli, è che era questa la cosa paradossale, mi stavo dimenticando, hanno cercato di sostituire noi i medici che sono stati sospesi quindi dei veri medici, dei veri veramente dei veri medici, delle perle, non li hanno tolte, hanno lasciato soltanto la mediocrità, i burocrati praticamente, e ovviamente mancava dei medici, hanno cercato di inserire i medici ucraini praticamente nelle strutture ospedaliere, considerate anche il russo non è una lingua latina, si parla spagnolo, un po' ci si capisce, passa l'asser in gas, si capisce un pochino, il russo, non si capisce un cazzo, quindi c'era bisogno anche di interpreti, quindi doppio lavoro, un interprete che per tutto il tempo andava praticamente a tradurre quello che diceva il medici ucraino, ma non è stato possibile, perché erano semplicemente intrattabili, perché la loro strapotenza, loro considerano, e il fatto di poter esistere, hanno insieme ad un altro, come il fatto di doverlo sovraffare, e si fermano soltanto quando c'è una persona più forte di loro, questa è la loro mentalità, possono essere laureati, non laureati, questa è la loro forma mentis, e infatti l'ipotesi di sostituire i medici italiani con i medici non vaccinati ucraini è fallita per questa ragione, perché sono delle persone che di fatto non potevano essere inserite, pensate un pochino il quanto sono, quanto sono grotteschi questi, questi che stanno organizzando tutto questo, no? Pensate un pochino, perché ci si concentra sempre sulle cattive notizie, ma pensate un pochino quanti dietrofronti zitti zitti hanno fatto, vi ricordate quando c'era la propaganda, no? Che molti youtuber inconsapevolmente hanno anche, hanno anche un po', diciamo, sponsorizzato, no? Quelli buoni, eh? Quelli buoni, perché a volte anche quelli buoni sono un po' stolti, no? Quindi mettono in risalto delle cattive notizie così che si vada a deteriorare la condizione di chi le va a sentire, le va ad ascoltare, no? E la cattiva notizia era questa, iniziavano ad uscire l'isloga con non possiederete nulla e starete felici, ok? Ora voi sapete che questi, che questi qui, no? Eh, sono quattro gatti, va bene? Sono veramente quattro gatti e hanno il bene placido di persone che stanno molto molto bene, quindi si parla di grandi industriali, quando i grandi industriali, iscritti anche loro all'interno di processi e considerazioni massoniche e obbedienze massoniche, quando questi industriali l'hanno detto, scusa, non ho capito l'ultima parola, cosa hai detto, non possiederò più nulla, ma sarò felice, no, no, ma te sì, no, no, a parte, a parte io sì, ma questo si parla di dinastie, quindi si parla, non è che i Benetton sono, c'è la famiglia Veneto che sta bene, ci sono dinastie che poi stanno bene, quindi quelle della dinastia interdipendente con i Benetton, dice, scusa, ma non ho capito cosa ha detto, che noi non avremo nulla e staremo bene, ha detto questa cosa qui, no? Quindi questa cosa è scemata, sparita, ok? Quindi noi, ragazzi, voi dovete, mi raccomando, questa è una cosa veramente molto importante, avere la certezza e consapevolezza che loro, siccome cretini, si autodistruggeranno da soli. Sono serpenti, che a un certo punto il serpente, sapete cosa fanno, no? Il serpente quando morde narcotizza anche, no? Quindi non sente il serpente, a un certo punto, no? È lì, sapete, non ha un sistema ottico il serpente, e lì a un certo punto sente ciccia, perché ha fame, si morde la coda, si narcotizza, non sente il dolore, si mangia da soli. Questa è la loro fine e l'esempio del serpente non è assolutamente casuale. Quindi state belli, sereni, però loro hanno un trucco che io vi sto svelando, ve lo sto dicendo. Questo è un trucco che vi cambierà letteralmente la vita, ve lo rifaccio. Questa cosa che vi sto dicendo è una cosa che vi cambierà letteralmente la vita. Vi faccio una domanda provocatoria. Volete che la vostra condizione di indigenza magari possa terminare in questo momento preciso e istantaneo? Benissimo, dovete fare come vi sto dicendo, come riprende la profezia di Celestino. Allora, loro, questa è una cosa che comunque di fatto applico nel Transurf, il Transurf ovviamente riconosce e di conseguenza ve ne parlo, con cognizione di causa perché poi sono applicativi che io metto all'interno della mia vita. Loro sanno che quello che ci fanno credere, per effetto di questi paradigmi di cui ho parlato prima, quello che ci fanno credere è che esista soltanto un mondo in cui loro sono egemonici. Esiste soltanto un mondo in cui comandano loro. Oh, come fai a vivere senza il governo? Tutte quelle persone che mi dicono vorrei vedere te se tu fossi licenziato sono persone che inconsapevolmente stanno spalleggiando questo sistema. Tra l'altro, piccolo inciso, una cosa molto importante, mi devo ricordare di dire che sto parlando poi dei livelli di realtà e come ci precludono l'accesso a determinati livelli. Ecco, su questa cosa magari poi ricordatemi nei commenti, se no vado da un'altra parte. Quando mi dicano vorrei vedere te quando, se tu avessi perso il lavoro, io a queste persone sono costretto a dirgli, ora fa un pochino verrà su Sonia e potrà confermarvelo, che io e Sonia siamo già stati sospesi tantissime volte e ogni volta invece di andare a scrivere nei post su Facebook «Maledetti mi hanno sospeso!» ci siamo rimboccati le maniche e ti avevano detto «Che figata! Da qui ripartiamo!» Siamo stati sospesi quando avevo un lavoro super sicuro, io fatturavo 10.000 euro al mese, quando facevo il lavoro che facevo, anche se ovviamente era un lavoro orribile. Non è che ero uno sfigato che non sapeva cosa fare, Sonia lavorava ad un importantissimo giornale di Milano. Abbiamo detto «Non si vuol più fare questa vita, ci siamo autosospesi». 10 anni fa, sarà dei precursori, senza saperlo. Quanto è importante farsi guidare dalla vita? E prima sospensione, abbiamo passato un momento di indigenza, ma sempre con il sorriso, sempre con la fantasia, sempre con la voglia di esplorare questa vita, sempre con la voglia di guardare, e anche la bellezza di guardare la vita, non dal punto di vista che stavamo occupando in quel momento, ma dal punto di vista della nostra eternità. Ci siamo sempre detti «Stiamo facendo una meravigliosa esperienza». Sapete quante mattine? Mi alzavo la mattina, aprivo la finestra e dicevo «Sonia, anche questa mattina nel paradiso terrestre». E ridevamo senza sapere in realtà come riuscire a pagare il mutuo, perché ancora eravamo in mutuo, no? E il mese successivo. Questo è stato l'atteggiamento predominante. E per lì ci siamo strutturati, siamo partiti da sotto zero e ci siamo creati. Abbiamo creato il nostro mondo, avevamo fatto tanti errori, ma anche tante cose belle. Il risultato finale è stato che stiamo cresciuti tantissimo. Poi succede la pandemia. Io dico, le persone mi capiranno, le persone che sono sicuramente, la maggior parte delle persone che stanno adesso ascoltando, sanno che loro sono mosse da un qualcosa che li viene dall'anima, non possono fare diversamente, piuttosto potrebbero morire, piuttosto che rinnegare quello che stanno facendo. Il contrario di quello che stanno facendo, dite queste persone che sono molto in vista, che invece di avere questa energia che le motiva, le fa muovere, le fa agire, sono le occupate a fare un partito, quindi a integrarsi in contesti di sistema ovviamente. Quindi voi tutti, mi capite bene, quando è successo questo monito dentro di voi, questa azione, questa grande energia, io ho iniziato a dire le mie cose. Resettato l'80-90% della clientela, con frasi, mi sono state rivolte delle frasi veramente vergognose, tra cui anche hai sulla coscienza tutti i morti di Bergamo. E da lì siamo resettati e siamo ripartiti. Siamo ripartiti, parlo per me comunque, perché con cui si tratta di una mia esperienza, anche se Sonia ovviamente era in parallelo, le faceva la sua e ne era coinvolta, però comunque di fatto parlo della mia esperienza, mi sembra più giusto. E ci siamo riorganizzati, a un certo punto crea una struttura, un canale, fa tantissime visualizzazioni, e fra i più visti d'Italia, milioni di visualizzazioni, che improvvisamente viene demonetizzato, mi vengono privati, quindi nella mia sospensione, altra sospensione, mi vengono tolte 5.000 euro, con cui portavo avanti lo staff, perché già avevo iniziato a costruire uno staff, e anche lì riparto da zero, e da lì mi ricreo, dico benissimo, vado in sala, c'è lockdown, non c'è problemi. Se io dovessi vivere questa esistenza, nel tentativo di obbedire a loro, potremmo assarmi già da adesso. Il disubbidiente, per antonomasia, non ubbidisce, non è un disubbidiente, quelli che vi dicono di fare un partito, e si vantano di essersi fatto un tampone, e dicono di aver preso, di aver preso un qualcosa, che non si può isolare, lo capite perfettamente, che sono elementi di sistema. Quindi mi viene tolta la monetizzazione, il canale però va avanti, sempre più visualizzazioni, cresce sempre di più, nonostante lo showdown che stava iniziando. A un certo punto, da un giorno all'altro, chiudono il canale, ma non una settimana, per finta, come hanno fatto certi canali qui, e rarissimi, perché certi non vengono minimamente toccati. Viene chiuso un canale, con 13 anni di storia, milioni di visualizzazioni, migliaia di contenuti, all'istante. Dice, probabilmente, mi viene scritto, non sei d'accordo con la nostra decisione. Se vuoi fare una rimostranza, ti prego di scrivere qui, e scrivi la rimostranza. Scrivo la rimostranza, è il motivo per cui non sono d'accordo, mi viene risposto con un no repli. In no repli, praticamente, quando tu mandi la metti, rispondono subito, abbiamo respinto. Hai violato le norme della community, no? E abbiamo respinto. Altra sospensione, se volete, da lì mi sono rimboccato le maniche, siamo ripartiti, no? Molte persone hanno agito di questo, hanno detto, ah, non hai più le visualizzazioni di prima, non considerando che in realtà, nel frattempo, stavo costruendo un apparato per continuare ad avere le stesse visualizzazioni di prima, e questo apparato mi è costato tantissimo in termini di impegno, in termini di energia. Capite cosa vi sto dicendo? Che tutto quello che mi hanno fatto, mi ha sempre rinforzato, perché non ho guardato la sciagura, ho guardato l'orizzonte. Questo è quello che bisogna fare in questo momento. Ora, ritornando, non mi sono dimenticato rispetto a quello che stanno cercando di farci loro, è questa cosa qui. Loro ti mettono in un contesto in cui tu credi che ci sia soltanto una linea di realtà dove loro comandano, quando in realtà, le linee di realtà sono tantissime, e alcune sono veramente, veramente virtuose, ma tantissimo virtuose, ma non sono così difficili da pensare o da sentire. Sono quelle linee che noi viviamo quando siamo nello stato in cui noi siamo innamorati. Metrix vi dice cosa vuol dire essere l'eletto? Essere l'eletto è come essere innamorati. Siete mai stati innamorati una volta nella vita? Se siete stati innamorati, voi sapete che quando guardate là fuori cambia tutto, cambiano i colori, cambiano le percezioni. Quando cambia questa cosa voi siete in una condizione in cui loro non possono fare nulla. Non c'è interazione, non vi vedano. Io una volta avevo un amico che era particolarmente fascinoroso e quando si andava in discoteca tutte le sere trovavi qualcuno, ma lui era tranquillo. Li venivano a rompere e succedeva la rissa. Ho smesso di uscire con quest'amico, non è più successo nulla. Vi posso garantire che lui non era l'artificio della rissa. Li venivano a rompere e c'era un'energia. Lui muoveva un mondo che mi coinvolgeva anche a me, anche a noi, perché saranno diversi. Quando lui non è più venuto, non è più successo. Il mondo è esperienze di realtà, sono piani di esperienze di realtà. Quando noi odiamo, quando noi ci stiamo impaurendo, quindi abbiamo paura, quando noi pensiamo a non perdiamo la consapevolezza di noi stessi, noi occupiamo un piano che di fatto è devastante. Loro sono in quel piano. Quando ti fanno preoccupare perché ti dicono delle cose preoccupanti, ti mettono nel loro piano, li comandano loro. Noi dobbiamo imparare a essere delle persone innamorate, quindi quando una persona si innamora, cosa prova? Prova semplicemente un'emozione importante di ricongiungimento con quello che sta osservando, con quello con cui sta interagendo. questa condizione è una condizione che fissa uno stato in cui loro non possono esserci. Per questa ragione è determinante mantenere questa condizione. Se io vado a sentire cosa dice Brunetta e vado a prendere che lui non vorrebbe metterti qualcosa nel naso con forza, è ovvio che io vengo poi sopraffatto da un livore. Ma se io invece guardo un fiore che cresce, non è che mi sto distraendo nei confronti di quello che potrebbero farmi gli altri. Io mi sto concentrando, sto facendo vivere un mio mondo, una mia sfera, una mia bolla dove loro non ci sono. Questa è una cosa che le persone che veramente gli stolti, gli stupidi non potranno mai capire. Per questa ragione si arrabbiano quando gli radico. Perché non gli sto dicendo il principio, gli sto dicendo quanto sono cretini. E questo è fonte della loro rabbia. Queste persone pensano di riuscire a cambiare il loro modo di poter cambiare, che ne so, ottica del mondo nel caso con cui volessero provarci mantenendo la loro indole. Quando una persona si innamora porta tutta la sua indole verso quello che vuole far sì che sia un cambiamento. È il personaggio che cambia tutto. Una persona che decide di cambiare scenario non lo fa tenendo comunque un livore dei confronti di chi le ha procurato un disagio. Semplicemente stacca pratica l'effetto tunnel se non lo conoscete quello di prendere atto della condizione in cui siamo facciamo un passo a tergo e diciamo adesso sono un uomo libero, vivo in un paradiso terrestre. Quando io parlo dell'esperienza della mia vita perché qualcuno in cauto anche perché molte persone in realtà leggono soltanto il titolo delle mie live non vanno a capire i contenuti perché non ce la possono fare mi dicono vorrei vedere te però se vorrei vedere te se quando in realtà la mia vita è la dimostrazione che io ho violato tutte le regole ho violato tutte le regole che mi hanno imposto dal coprifuoco in poi tutto non mi è mai successo nulla ma no una multa non ho nemmeno mai incontrato la polizia questa è la ragione che avvalla e mette in evidenza che esistano tanti che esistano tanti metti questa domanda mi sai che come applicare il tassepe per dimagrire metti questa domanda che noi possiamo collocarci in un piano di realtà in cui semplicemente loro non ci sono in Matrix quando gli dice riparla dell'eletto a Neon gli chiede ma quindi vuol dire che l'eletto potrà schivare i proiettili e Morpheus gli dice no vuol dire che non ce ne sarà bisogno questo è un principio determinante è fra le cose più potenti che si trovano nel film Matrix è questa la cosa più potente che ve la rifaccio quando gli chiede se l'eletto è in grado di poter schivare i proiettili Morpheus gli dice no non ce ne sarà bisogno di schivarli perché non ci saranno proiettili dove sarai tu non ci sarà la necessità di schivare proiettili e l'altra cosa potente è quella di quando c'è quel bambino asiatico che fa volare non mi ricordo no fa piegare un cucchiaino ci prova anche Nion quando sta per andare dall'oracolo ci prova anche Nion e non le riesce e il ragazzino gli spiega una cosa dice ricordati tu vedi il cucchiaino ma sei tu il cucchiaino la sostanza la natura ancora l'esempio della penna la sostanza la natura di questo cucchiaino no gliela dai tu quello che ti restituisce la percezione di questo cucchiaino è quello che sei tu se sei buono è buono se sei cattivo è cattivo il cucchiaino sei tu devi imparare a pensare che sei tu il cucchiaino quindi non devi piegare il cucchiaino che è la tua proiezione devi piegare te stesso ti devi piegare allora lì vedrai il cucchiaino piegarsi volete un bel mondo diventate belli fate delle cose belle per le persone che sono all'interno del mondo la ragione per cui faccio molta beneficenza a tutti i livelli non soltanto economica a tutti i livelli è perché ho una ho un tornaconto sono assolutamente motivato in questo ho un tornaconto in via immediata quando tu fai delle cose belle ti ritornano delle cose belle e se qualcuno dice vorrei vedere te io purtroppo per loro ho la storia della mia vita a dimostrazione la mia vita non è perfetta la mia vita è felice capite cos'è importante e quanto è importante questo quinto capitolo della profizia di Celestino quando dice che quando noi impareremo a instaurare una condizione d'amore dentro la nostra vita da loro saranno tagliati fuori non ci sarà bisogno di combatterli non ci sarà bisogno di schivare i proiettili semplicemente non ce ne sarà bisogno perché non ci saranno i proiettili questo che vi sto dicendo è la storia della mia vita io non so quante persone possono parlare così no? perché si parla sempre idealmente no? perché allora perché la fisica quantistica dice la vita è importante tu quando trasferisci un principio lo devi rendere vivo lo devi vivere lo manifesti la tua esperienza è quello che poi dà vita al principio non il principio spesso quando si viene a contatto con elementi principi di fisica anche principi fondamentali di fisica quantistica rimaniamo basiti oppure attiviamo quel nostro processo di intrattenimento che ci fa sembrare di vivere un qualcosa di virtuoso di aver capito qualcosa quando in realtà è tutto ancora nella sfera dell'immaginitico cioè quella sfera in cui tu sembra tu hai la percezione che stai facendo qualcosa di efficace mentre stai solo sognando bene Sonia tesoro 1400 persone collegate sono a titolo su tesoro ti stavi addormentando? no stavo leggendo sei d'accordo con quello che ho detto? quando parlo dell'esperienza che abbiamo fatto io e te in tutti questi anni io parlo un po' della mia esperienza personale però ovviamente anche tu ne stai coinvolta perché se non avessi avuto una grande donna accanto non avrei mantenuto poi l'umore praticamente sempre alto anche quando non era non c'erano veramente gli elementi per tenerlo alto però quello che fa la differenza è quando tu vai oltre non sei corrotto da un lamento ma continua a sorridere anche quando motivi per sorridere non ce ne sono vero amore? esatto benissimo bene hai selezionato delle domande? sì ho selezionato delle domande allora all'inizio ci sono persone che hanno scritto per avere delle indicazioni di quando faccio le live io addirittura e allora volevo dire che possono scrivermi una mail così le rispondo perché per parlare del sistema immunitario o cose del genere cioè sulle boccettine dei fiori di Bach non puoi parlare un po' più forte amore ha paura di parlare forte perché no è una figura di merda ecco a vicenda un po' mi rossono alla bocca se vuoi così? ok sì e niente che se mi iscrivono a soniacabialio tommel.com gli rispondo direttamente che qua non è ok tra l'altro è in previsione un corso in sala da parte di Sonia che ieri appunto mi ha proprio minacciato direttamente mi ha detto ascoltami ma te che fai organizzi corsi per tutto ma a me ci hai pensato ha fatto basta che tu me lo chieda quindi prestissimo vedremo la nostra soniacabialia naturopata in sala ok poi c'è una persona che dice io vado proprio così random o volevi delle cose sì sì no no non rendo random che voleva sapere se quando parli di di Vimeo parli di Inzion ok no sì sì no la chiarisco allora nel Vimeo è un è un canale un provider molto grande secondo sola YouTube dove noi avevamo la possibilità di poter acquistare degli spazi no e non li abbiamo acquistati e ci è costato diciamo tantissimo e questo spazio però garantisce l'incolumità nel senso non ce lo possono buttare giù e tutti i video della piattaforma che noi mettiamo in piattaforma sono all'infuori che non siano video di altre persone di cui non ci permetteremo mai di prendere ovviamente il video tutti i nostri video poggiano su anche i nostri corsi poggiano su questo provider Vimeo e poi che ci garantisce appunto il fatto di non essere cancellati e poi vengono messi in piattaforma questo è un escamotage per evitare la censura a cui siamo sottoposti costantemente poi allora avevo salvato sempre di questa persona araba fenice che dice eh sì che parla proprio dice si ricorda dice ma allora la Sicilia hanno sempre avuto problemi di siccità da piccola mi ricordo quando con i miei nonni si andava a prendere l'acqua dalla fontana e durante la giornata chiudevano l'acqua e poi in un altro commento diceva però non hanno mai fatto tutto questo casino che stanno facendo adesso ma infatti quando c'era quel gruppo ti ricordi Sonia quando c'era al mare che c'era quel gruppo di donnini dei palmati donnini della spesa che parlavano ma il caldo ma il caldo che fa sì e l'altro ma il caldo che fa poi draghi draghi povero draghi siamo alla rovina siamo siamo alla rovina almeno l'avessero fatto governare ma le stesse ieri dicevano che non c'era l'acqua lì nella loro zona ecco capite quindi semplicemente rimbeccano quello che i miei streamer dice bisogna cambiare zona perché prego poi allora c'era questo commento che mi sembrava carino che dice ormai non ascolto più nulla non mi arrabbio nemmeno più vivo la mia vita esattamente brava allora allora per finire dice se ci si iscrive a Vimeo o no per lo più i canali i video sono privati che si possono vedere solo dalla piattaforma non è un provider social ecco per noi è proprio un serbatoio è un ottimo rendering quindi si riescono a vedere i video senza che ci ceppino troppo a volte qualcuno ha lamentato un po' di rallentamento nel vedere i video però abbiamo avuto a volte dei collegamenti contemporanei di 30-40 mila utenti nella medesima ora e quindi allora lì la piattaforma non ce la fa andare avanti però quando invece quando invece diciamo normalmente si riescono a vedere molto molto bene i video da cellulare e da computer prego poi c'è Massimo che ci sta guardando Massimo del macchinetto è Massimo Cazzola ciao Massimo ciao perché ha scritto un paio di volte e questo è lo suo commento che sai sempre poi grande Massimo ti chiamo oggi Massimo ti chiamo poi invece questa persona ha scritto un paio di volte dicendo la quella più riassuntiva è questa qui voleva dire come risolvi col transurfing problemi legali ecco gli togli l'importanza e poi perché dice ecco questo una denuncia una querela come scusa che diceva se ti facessero una denuncia una querela no me l'hanno fatta penale ma me l'hanno fatta proprio e l'ho presa a ridere l'avete visto comunque l'ho trovata in piattaforma guardatelo perché veramente l'ho caricato perché veramente siamo un giorno in questura dove c'era è stata meravigliosa insomma una signora un'insegnante durante un'intervista e qualche tempo fa era un pochino più sboccata un pochino più diciamo e una c'era un questo un professore così carino così no che era stato vessato da questa donna insomma questa questa preside che mi sono immaginato veramente brutta no così no e penso di averla proprio soffata come troia ma non tantamente non me lo ricordo però la denuncia riportava che avevo dato della troia alla a questa signora no e e di fatto niente non l'ha denunciato quindi la denuncia è penale no sono andato in questura e ovviamente sono andato senza mascherina che quando mi ha visto la eh signor Nali che era una signora no dice eh signor Nali eh chi è questa via accanto che era vera no e dice fa diciamo l'assistente ma non ci può entrare ho fatto guarda lei ci può e ci deve entrare invece perché io non mi ricordo me è un cazzo insomma quindi mi so lei mi fa delle domande che praticamente non mi ricordo allora in questo caso va bene così veramente no poi mi guarda e dice ma lei ma lei ma lei non c'è la mascherina in detreggia era attenzione ero già a due metri di distanza e l'aveva anche in testica sono in detreggia ugualmente no li faccio no perché ho un certificato per non portarlo ho posso vedere e gli do il certificato e la mia mano e lo prende in mano quindi in questo senso se ci fosse esistito il virus non l'avrebbe preso ma non importa e insomma vai niente quindi sta certa di questo e accetta il fatto che sia senza mascherina li faccio è anche vero che lei e non mi guarda il certificato è una storia veramente paradossale comunque mi hanno denunciato assolutamente l'ho presa a ridere e fino adesso non so se hanno constatato che è realmente una troia quindi non consiste reato oppure semplicemente è andato tutto e finito tutto nel nulla allora questo ragazzo come si chiama Sonia? posso dirgli anche il nome? aspetta che lo riprendi Pierpaolo Pierpaolo va bene Pierpaolo guarda l'errore mi permetto di dirti che l'errore che stai facendo te è che sta cercando di cambiare un problema mantenendo la condizione che ti ha caratterizzato nel problema tu quando vuoi cambiare un problema non devi più essere quella parte di quell'essenza lì devi essere un'altra cosa sono la soluzione sono un uomo libero un uomo che non può essere denunciato da una troia l'ho pensato io e di conseguenza vai avanti in questa maniera se tu cerchi di pensare di poter risolvere un problema mantenendo la struttura energetica che l'ha causato non lo risolverai mai tu non puoi immaginare come possono cambiare le cose cosa puoi risolvere quando si cambia atteggiamento Pierpaolo qui c'è qui Sonia a me è arrivata una multa da 10.000 euro equitalia tu potresti rispondermi adesso come fai però se ti arriva una multa mi è arrivata la denuncia penale mi è arrivata una multa una cartella esattoriale da 10.000 euro e ti ricordi Sonia quando arrivò chi disse non voglio vederla come ti arrabbiasti siamo fra amici vuoi dirlo ok io sapevo perfettamente che cosa dovevo fare dovevo mantenere la mia integrità di persona libera se avessi guardato in un contesto in cui non avevo i soldi non avrei potuto pagare quella multa e poi cosa è successo dopo qualche anno dopo un anno che sono successe tutta una serie di cose che poi alla fine la multa si è pagata da sola ragazzi non vi sto parlando di principi il fatto che una persona non voglia cambiare se stesso per metterli in atto è un altro discorso quindi è normale che si possa arrabbiare con me e ovviamente mi so difendere quindi poi reagisco è chiaro però quando una persona vuole veramente cambiare non fate domande di Pierpaolo perché Pierpaolo fa una domanda dove mette in evidenza cristallizza il fatto di non voler cambiare e quando succede questa cosa quando succede questa cosa tu cambi personalità è una legge per Paolo è una legge che è nata prima di me e di te è una legge che continuerà a esserci quando io e te non ci saremo più è una legge e il fatto di adeguarsi è una cosa molto importante il fatto di quando Darwin disse Darwin disse nonostante sono massono lo so perfettamente però disse una cosa molto importante la specie che sopravvive non è quella più forte non è nemmeno quella più intelligente è quella che si sa adattare che non vuol dire sottomettersi vuol dire adattarsi la legge che richiede un cambiamento è una legge che richiede il tuo adattamento il mio adattamento è l'adattamento di tutti che è quella che implica il fatto di cambiare la tua natura la tua indole affinché tu cambia anche la condizione se non cambi la tua natura non puoi risolverlo ma non è colpa mia è colpa tua perché non vuoi cambiare questo genere di condizioni che è per Paolo prego allora poi se vuoi rispondere mi spieghi come applicare il transurfing per dimagrire è la cosa che faccio io è la cosa che faccio io anche io in questo momento sono in un processo no ma tanto me la ricordo non mi ricordo il nome però comunque la domanda me la ricordo perché mi ha fatto sorridere e ti percepisci come magra che saltelli che fai delle cose hai questa percezione di te no? quindi la pesantezza quando una persona ingrassa prima ingrassa di testa dopo ingrassa nel corpo quando una persona si ammala prima si ammala di testa poi la malattia diventa palese nel corpo quindi pensati come magra pensati in una condizione di magrezza poi ovviamente ci cerca anche di mangiarti meno ecco però ti accorgerai che quando sei in una condizione in cui ti percepisci come magra ti cerca anche di mangiare di meno questo genere di preparazione guardati tanti video in cui si parla di fitness si parla di benessere si parla di movimento fisico yoga pilates entrambi in quest'ottica quando prepari la tua mente questa predisposizione dei risultati li ottieni poi se ti scofani in quattro cornetti la mattina è chiaro però ti ripeto se si va all'interno se si entra all'interno di questa modalità di pensiero può succedere anche che si succedono che viene anche di nutrirsi di meno insomma di mangiare di meno la sorgente di Sanremo è Dana poi mettila lo metti in evidenza hai capito che era lei si 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 ok vai poi qua dice Maurizio caro Luca come può una persona vedere un mondo nuovo con una mente vecchia una mente ingabbiata nel sistema dove la natura viene trasformata in qualcosa ad altro che si chiama vita virtuale eh certo infatti in questo caso non so se la tua è una domanda o è un'affermazione no che sembra una domanda non può infatti non può assolutamente quindi una persona per cambiare per vedere un mondo nuovo deve cambiare se stessa è il cucchiaino che non si può piegare può piegare te che guardi il cucchiaino perché il cucchiaino è la tua proiezione prego allora beh leggiamo quella della Dana che così che scrive quando tu apprezzi la bellezza l'unicità delle cose ricevi energia quando raggiungi un livello in cui provi amore diventi capace di rimandare questa energia eh beh certo assolutamente grazie Dana prego poi una persona ti chiede se Dorotea di Cara vorrei sapere se è solo nel mondo occidentale che esiste la Matrix e se sì perché no la Matrix esiste eh in tutto il mondo in tutto il mondo in cui c'è un'interazione la Matrix è accesa attivata dall'accettazione del valore intrinseco delle banconote alla fine no quindi dall'in poi inizia il processo di Matrix quindi in quelle in quelle strutture tribali no che gelosamente tra l'altro difendono anche la loro indipendenza non vogliono assolutamente contatti con il mondo occidentale con il mondo scusate se occidentale con il mondo civilizzato tra virgolette loro probabilmente non sono sotto gli effetti della Matrix però tutte le volte che tu accetti un compromesso fittizio eh quindi di una di un valore intrinseco di un qualcosa che accetta anche un sistema lo riconosci ci interagisci a un interscambio con questo essere into Matrix anche peraltro però in linea di massima è questo ieri ho sentito elettrone libero Sara per quanto riguarda visto che ho telefonato che si stavano passeggiando in giù per quanto riguarda il progetto di Auriti è una cosa veramente molto interessante faremo delle live dove poi ho messo anche un video in piattaforma e faremo delle live dove poi andremo a spiegare questa storia della moneta Auriti era un genio veramente prego poi tra quelli salvati vediamo ecco brava poi toglili brava lo sta facendo i commenti che leggi poi toglili se non poi rimangano lì allora Matrix dice Giuseppina vuol dire teatro sì vuol dire anche utero però poi Alessandra Gismondi dice non tutti hanno la vostra intraprendenza ma si diventa così ciao Alessandra si si diventa così ti faccio faccio vedere una cosa Sonia allora Sonia quando mi ha conosciuto io ero ero uno mini depalmato vero more? Sonia sì è vero ecco e poi alla fine una persona si trasforma no e fa e gli succede gli succedono delle cose no quindi tu adesso vedo un'intrapendenza ma questa intraprendenza non so se poi alla fine la vedo o no ma questa intraprendenza è un qualcosa che è frutto di di un lavoro che poi è stato fatto non mi sono limitato a guardare il mondo e a criticarlo mi sono mi sono occupato in prevalenza a cambiare il mondo che di fatto mi stava coinvolgendo adesso ti faccio vedere una cosa nel mio canale Entropia aspetta questo eccolo qua questo è il mio ultimo canale che ho aperto Entropia ed è puoi togliere il commento amore sì e praticamente è il coso è il è un mio canale vecchissimo che avevo e che siccome mi hanno chiuso un altro canale in Zion con più di 10.000 iscritti e quindi sono rimasto così allora questo sono io faccio vedere intraprendente eccolo qua questo sono io ciao sono un scepolo di Max Frank il fondatore della fisica quantistica ho dei suggerimenti rispetto sembrano scherzo ma sembrano scherzo questo sono io ok mi posso togliere vi dispiace ecco grazie allora visto come ero vecchio cosa succede cosa succede che lì ancora non avevo capito chi cazzo ero quindi una persona diventa forte quando entra nella condizione in cui si rivela a se stessa per rivelarsi a te stessa devi andare attraverso delle paure devi iniziare ad ascoltare devi iniziare a fare delle cose quindi io questi video li ho voluti lasciare apposta perché così quando le persone mi vedono un po' spigliato magari un po' strutturato così non mi dicono parli bene te che c'hai una struttura eccetera come se me l'avessero fatta loro la struttura tutta me l'avevano fatta io sono partito da quelle basi lì quindi sicuramente più bassi di me non c'è nessuno e da lì si può creare delle cose ma tu cosa ce l'hai trovata amore mio non lo so qualcosa c'era non ero né ricco né bello niente meno ora sono bello ti dicono da un mini depalmato a Morpheus grande Morpheus come personaggio perché ho visto anche il backstage di Matrix e c'è Trinity che ha un rispetto anche durante le prove è verso Morpheus che è un qualcosa di pazzesco c'è una proprio si parla di venerazione veramente molto e lui è un attore che è poderoso una personalità incredibile doppiatore anche una voce meravigliosa prego poi allora una persona ti chiedo Tiziana parla del libro di Silvia Goggi l'antidieta che l'ho letto anch'io appena è riuscito che lei però è vegana quindi secondo me non è che poi è sempre per tutti eh parlene però parlene Sonia eh no vabbè non so come mai ha scritto adesso del libro di Silvia Goggi l'antidieta forse parlava della persona che voleva dimagrire che però non è che ti dà cioè è un modo nel quale alimentarsi non è proprio una sorta di dieta dimagrante il libro bellissimo super interessante e con delle bellissime alternative però secondo me non è l'unica soluzione anche se anche a me piace lei la seguo anch'io questa Silvia Goggi Arba Fenice dice ma Sonia sta a vedere e invece quest'altra persona ti dice possibile sapere che integratori usi per migliorare la vista tu eh allora per migliorare la vista sono successe due cose nella mia vita allora prima di tutto in piattaforma c'è un corso no miglioramento visivo che potete acquistare per migliorare sono tutti degli esercizi per migliorare la vista ok quindi questa cosa qui è possibile farla nella mia nel mio caso sono successe due cose importanti la prima è che siamo in cura da un omeopata di Lugano ne ho parlato l'ho anche intervistato eccetera e poi anche sto facendo periodicamente quasi tutti i giorni la macchinetta la macchinetta di cui ti ho parlato che comunque mi ha risolto tantissimi problemi tra cui anche il rinvigorimento fisico ecco diciamo queste sono le due cose che ho fatto che poi mi hanno caratterizzato questo cambiamento di vista parlo della mia esperienza nel senso non c'è faziosità in questo domanda risponde eh Sonia cosa ho fatto perché la vista di significativo sono queste due cose che ho fatto sì prego poi una persona dice che ha trovato molte analogie sul tra il transurfing e la profezia di Cellesino è certo ecco ecco già Alessandra sì ma guardate allora quando si parla di transurfing in realtà non si parla di una religione il transurfing è un misto poi il genio di Vadinzela è stato quello di metterlo insieme però è un misto tra cultura esoterica e volutamente non tocca quella esoterica le sapete l'esoterismo riguarda più è un qualcosa di potente che però aspetta che però riguarda più l'ambito nero c'è un altro corso bellissimo di Dana in piattaforma magia nera rossa e bianca dove spiega appunto bene poi c'è tante infiltrazioni di cultura sufi che sarebbe la parte spirituale dell'islam e tanto di gurge quindi quando si parla di transurfing ci sono tante di quelle cose sono principi transurfing spiega la vita transurfing non è la vita transurfing spiega la vita un po' come con la religione la religione invece è la vita dal punto di vista della religione transurfing spiega la vita e questa spiegazione poi ovviamente collima con la definizione la descrizione di vita di vita pratica che molti che molti autori profondi fanno ma anche in Eric Fromm ma anche in Eckhart Tolle si possono trovare i principi del transurfing ovviamente in gurge ovviamente quindi assolutamente sì Alessandra prego poi allora una persona dice Alvam che vorrebbe avere il nome del depuratore dell'acqua che utilizzi allora ci fai ci mandi una mail con questa a luca.nalichiocciolanzario.com tanto c'è c'è Sonia che c'è lo che risponde le mail che è qui e lì ti mando il contatto per questa cosa non è un depuratore alcalinizza l'acqua vai Sonia poi quest'altra persona Brenda dice che c'è l'audiolibro della profezia completa di su YouTube perché ah grazie Brenda mi fai una cortesia grandissima grandissima se l'hai trovato me lo puoi farò anche io ricerca facciamo ricerca perché ce n'è uno di pochi minuti non è completa c'è scritto completa ma poi dura tre minuti poi magari lei l'ha trovato eh se proprio quella le lunghe sono diverse ore me lo fai sapere che ho anche voglia proprio di riascoltarmi lo sai prego allora a me mi si sta per spegnere il computer tra l'altro cosa ti avevo detto ti avevo detto guarda amore non ti mettere a guardare le mail adesso o quantomeno ti colleghi a una presa di corrente perché 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 non mi dà meretta perché 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 alla fila più lunga amore mio stai lì no dai vengo a prenderla io scusami ti continuo a leggere eh allora provo a prenderla io sì vieni ok matemi giù no eh sì ti metto giù aspetta faccio vedere faccio vedere l'imbarazzo di Sonia Cambiari naturopata ecco che sta raggiungendo appunto sta andando è lì è lì è lì sta andando nel mobilettino lì sotto 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 sta prendendo a ripremere porca puttana cascano altri oggetti durante il tentativo di presa della eh della prolunga l'imbarazzo la rabbia di Sonia Cambiari naturopata ecco se questo è sfruttanamento quello è in una presa ricorrente però va un po' in una presa ricorrente vediamo un pochino se riusciamo allora vai su Bluetti Bluetti no no eh non toglie neutro roberse non vuole toglierlo lei così è fatta così Sonia Cambiari naturopata se non mette il riduttore non ce la farà mai a mettere la presa ma Sonia Cambiari di naturopata non si arrende di fronte a questo quella che ha acceso una centrale elettrica non è quello riduttore quindi cerca ancora nel cassetto Sonia non lo trova non me lo fa vedere perché non vuole che sia io a dirgli questa cosa sbaglia ancora connettore devi girarlo amore se non lo giri non c'entra mai sposta neutro roberse come gli ho appena suggerito riesce a infilarlo nel buco Sonia Cambiari naturopata riesce nell'impresa si sta addentrando prima ancora di strigare il caricatore si complica la vita cioè di l'interruttore della sciamata si complica la vita Sonia Cambiari naturopata eccola sta andando verso la sua postazione esterna dove l'ho segregata eccola qua e Sonia Cambiari naturopata sta per uscire e intanto vuole anche stare anche alla fine benissimo come mi piace prenderla per il culo voi non avete idea ecco qua allora benissimo ok come avete visto tutto sono dietro il quinto avete visto avete visto nel nel backstage il movimento di Sonia Cambiari naturopata eccola si è messa ecco si è messa andando dopo stazione perché c'è c'è una luce dietro vabbè eh lo so però c'è il sole e mettiti dove non c'è il sole bene amore dai leggiamo altre due tre domande dai basta sono le dieci basta ricordati che sei sotto la mia giurisdizione per tutto questo tempo quindi ancora rispondi un altro paio di domande e allora se avete c'è Paolo che chiede di questa macchinetta mi fate per favore una domanda mi mandate una mail e se ne ve lo ve lo dico vi risponde Sonia tanto la conosce Sonia meglio di me Frank Camprese allora io ricordo che l'unico rapporto omosessuale di virtuale che ho è con il mio Frank Francese Frank Camprese con cui stiamo insieme da un anno ciao Frank virtuale eh ragazzi ah anche Concetta dice che c'è una che dura più di sette ore questo audio libero su YouTube audio video su YouTube ah ottimo bene ma ragazzi noi stiamo cercando se Frank Camprese che ha accettato è un mito un mito tu compagni eh sì se ce l'ha mandato ci fate anche Alberto dice così ok l'unico che non l'ha vista siamo perfetto quindi andiamo quindi sarà facile trovarlo ma scusa ma l'audiolibro che abbiamo su Mega non è allora l'audiolibro però è passibile di diritto dell'autore se lo metto in piattaforma mi danno dei problemi alla piattaforma ok se invece lo mettono su YouTube non li fanno nulla al massimo li buttano sul canale però comunque è una cosa diventa una responsabilità loro scusate se penso così però purtroppo è stanno così le cose prego ah poi una persona che ogni tanto scrive dice che ci sono dei punti riflessologici per migliorare la vista sì è vero tu le conosce moremmo vuoi dirli? di solito sono i punti sulle dita dei piedi sono le mi sembra adesso non mi ricordo bene se ma devono essere il quarto e il quinto dito proprio bisogna lavorare sui punti anche laterali dal pollice no no quarto o quinto dito vuol dire verso il mignolo dal mignolo in poi no dall'alluce è il primo e poi si va è il primo dito dal pollice no no dall'alluce amore ti ricordo che in questo in questo ora ho un potere totale su di te quindi dovresti portarmi rispetto bene anche l'audiolibro punto zero anche l'audiolibro di Adelphi dura 10 ore e mezza se si chiude te lo ricordo amore lo scarichiamo lo carichiamo sul piattaforma ok bene ok poi eh non lo so io quella che avevo salvato te l'ho detto più a minuto vuol dire qualcosa di toccante per le persone ma le hai detto tutte bravo Luca ci sono delle domande eh allora questa te l'ho letta questa te l'ho letta questa signora che dice che quando fai con la voce lì Giuseppina dice che quando fai con la voce lì la sua gatta scappa ci credo ci credo ma poi la vocina la vocina del commissariato no quando a un certo punto fa dice dice vabbè anche se non c'è la mascherina tanto sarete vaccinati no infatti no guardi non siamo vaccinati perché noi non ci vacciniamo ma allora ma allora esistono in questo senso no così e quindi è stata una cosa quando siamo usciti dalla questura io è vera ci siamo piegati per terra che sta proprio vivendo il suo mondo così che male Luca Angeli non ho letto vai altri due commenti e morito andiamo dai andiamo al mare ah Luca mi sembra che hai detto di aver smesso di fumare come hai fatto non è da poco è stata la cosa più bella che ho fatto in vita mia ma soprattutto io fumavo ragazzi cinque pacchetti di hypos l'hypos ha una ossifazione che è superiore a quella della nicotina normale vi posso assicurare io sono stato due giorni ti ricordi Sonia come è stata però grazie a questa persona all'ornella all'amica anche lì mandatemi per favore mandatemi il coso mandatemi la richiesta su per mail vi diamo il contatto diretto sono autorizzato a farlo sono autorizzato a farlo qui ovviamente però mi mandate e a questo metodo che praticamente ti fa smettere di fumare cioè sono stato due giorni fuori di testa in senso su un stato l'ho fatto ho spesso di fumare sono stato male fisicamente mentalmente tutto l'ho rifatto perché è molto molto bravo a seguire le questioni e da lì in poi non nemmeno più ho avuto il desiderio proprio zero di zero cioè proprio chiuso capitolo chiuso rinato completamente da questo profilo l'ultima e poi basta allora tra quelle che ti avevo salvato l'imbarazzo era questa sì Guido che dice modificano la percezione della realtà per imprigionare la mente nella loro gabbia è il loro mestiere da secoli esattamente è Guido è veramente così proprio così bene allora Sonia vuoi continuare un'altra oretta o preferisci chiudere sì secondo me un'ora va bene su te sei troppo lungo di solito un'ora in mezzo è troppo ricordatevi che davanti a migliaia di persone sono detto che sono troppo lungo questa ragazzi me la tengo un'ora 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 di qualcosa dai va bene va bene ok amore allora io ringrazio le persone che hanno condiviso togli pure il commento ringrazio le persone che hanno condiviso le persone che hanno messo like le persone che hanno controllato se il signor di tubi le avesse mai tolto l'iscrizione tutte le persone che vanno su un zaio le ringrazio le persone che hanno fatto anche delle donazioni le state facendo grazie veramente grazie di cuore tanto noi poi le reinvestiamo dedicandoci agli altri come sapete grazie per tutto grazie per esserci ci vediamo domani con il numero 6 profezia celestiale numero 6 Sonia vuol dire qualcosa di impatto no bellissimo ciao raga ciao grazie mille 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 grazie mille